Cos'è successo esattamente l'ultima volta che hai incontrato Takamoto? Volevo rifilarmi degli antichi cimeli del periodo Asuka. Le buone maniere non funzionano con la Yakuza. Eppure l'hai lasciato andare. Così avremo una gradevole conversazione. O almeno lo spero. Benvenuta Lara. Si sta divertendo ogni piccolo rinfresco. Totemoto no Shinneamas Nishimena-san. Con l'arrivo di Takamoto però, sono sicura che potrei crearle qualche disagio. Faccia attenzione. È un uomo molto pericoloso quando i suoi interessi differiscono da quegli altrui. So essere molto convincente quando voglio, anche con gli uomini pericolosi. Ne sono convinto. Posso essere pericoloso anch'io, ricorda? Ma prego, si goda la festa se riesce. Buona fortuna. Sia breve, signorina Croft. Ho altre questioni urgenti che richiedono la mia attenzione. Certamente, Takamoto-san. Sto cercando un frammento di spada, esposto all'università di Waseda, almeno fino a che lei lo rubasse. Non sono un ladro. E lei farebbe meglio ad astenersi da simili accuse. Allora passiamo subito alle negoziazioni. Non ho la più pallida idea di che cosa stia parlando. Certo che lo sa. Mi dica un prezzo. Signorina Croft, non ci sente? Non saprei. Vediamo. Perché non mi implora come l'ultima volta che ci siamo visti? Quelle dove le hai trovate? Un tonno. Mai arrivare ad una festa a mani vuote. Takamoto è sicuramente rientrato nel suo attico. Non lo segua Lara. I suoi uomini la staranno aspettando. Latrio è una trappola mortale. Lo so che ami le sfide, ma questa non sarebbe una scelta vincente. Se non si può scendere, meglio salire. Come si raggiunge il tetto? Il tetto? C'è un ascensore. Presti attenzione. Stanno facendo dei lavori. Non sarebbe dovuto avvenire qui. Questo è il mio territorio, non un'altra delle sue polverose tombe. Mi dica della spada, Takamoto. Perché? Cos'è che l'affascina così tanto? Mi lasci dare un'occhiata e glielo dirò. La sua ostinazione sarà la sua fine. Lei mi ha mancato di rispetto. È entrata nella mia casa. Ha ucciso i miei uomini. Ho alleggerito il suo libro Paga. E ora, se permettete, snellirò il suo bell'inventario. Sta parlando di questo? È uno dei pezzi pregiati della mia collezione. E che cosa sarebbe esattamente? Mi appassiona recuperare oggetti di vecchi gentiluomini inglesi. In questo caso, di uno dei vostri crociati. Alcuni sostengono che appartenesse ad uno dei cavalieri di Re Artù. Non so come egli ne sia venuto in possesso, ma l'oggetto risale sicuramente a prima dell'undicesimo secolo, quando la vostra gente viveva ancora in capanne di fango. E per questo preferisce morire piuttosto che privarsene? No. Per questo! Così va meglio. Hai visto cosa può fare? Sì, Alistair, ho visto. L'elicottero di Nishibura ti aspetta fuori. Ottimo. Credo proprio di dovergli un favore. Grazie, Nishimura-san. Sono veramente felice di rivederla. Anch'io sono sollevato. Mi dica di Takamoto, dove si trova? Diciamo che qualcun altro erediterà la sua collezione. Ho un aggiornamento su Rootland. Che ne dici di una capatina in gana? Perché no? L'Africa è uno dei miei continenti preferiti.